Ciao a tutti, si avvicinano le feste di Natale e di consueto se sei in una relazione tossica ecco che il manipolatore, il narcista patologico farà di tutto, ma proprio di tutto per rovinarti la festa, soprattutto se per te è una festa importante. Potrà ovviamente studiare diverse strategie, potrà dirti che viene l'ultimo momento non presentarsi. Potrebbe inventarsi qualunque scusa per non venire, tipo qualche parente, amico, genitore o chissà chi che sta malissimo o anche lui che d'improvviso sta male. La cosa peggiore potrebbe farti preparare tutto quanto dicendo che viene e poi senza nemmeno avvisarti non si presenta nemmeno, trovando ovviamente una scusa per far capire, per spiegare come mai non si è assolutamente presentato. Quindi le modalità possono essere veramente tante, no? Ma una cosa è certa, che queste persone tossiche fanno di tutto per rovinare qualunque festa, qualunque evento importante alle loro vittime, che sia Natale, che sia Comperanno, che sia una festa di laurea, che sia qualunque altro evento che può essere importante, il loro scopo, il loro intento è quello di rovinare la situazione. Non solo rovinarla, ma far sentire anche in colpa quella persona a cui ha rovinato tutto, perché troveranno 12.000 scuse e soprattutto incominciando a far sentire in colpa quella persona a cui ha rovinato tutto dicendo che in fondo sono pressati, che non capiscono, che gli inconvenienti possono succedere a tutti, eccetera, eccetera. Se siamo in una relazione tossica, non possiamo quindi aspettarci il miracolo di Natale, perché i miracoli non avvengono, soprattutto con queste persone. Anzi, dobbiamo essere consapevoli che se siamo in queste situazioni in una relazione tossica, dobbiamo aspettarci di tutto. Quindi non dobbiamo illuderci, non dobbiamo fare voli pindarci, dobbiamo imparare a stare coi piedi per terra. Anzi, dovremmo farci un bel regalo a Natale, proprio perché siamo sotto le feste. Magari imparare a cambiare completamente la nostra tendenza e quindi evitare di rimanere in una relazione tossica, imparare a volerci bene. Un bel regalo di Natale è quello di mettere noi al primo posto nella nostra vita e imparare a proteggerci, a tutelarci e soprattutto non permettere più che certe persone ci rovinino ogni situazione che per noi è importante. Questo è veramente fondamentale. A volte lo facciamo da soli, ce la facciamo, è una cosa magari che riusciamo a fare facilmente, altre volte invece facciamo fatica e allora chiediamo magari un aiutino. In caso di necessità, non esitate a contattarmi, sotto trovate i miei indirizzi e mail. Quindi cambiamo tendenza e con l'occasione vi auguro buon Natale e buone feste. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!